salve cari amici e cari amici sono ritornata su youtube a fare i video però direttamente dal telefonino perché prima non lo sapevo usare e niente sono mancata da un anno adesso sono toscana ci piace ci piace veramente veramente parecchio e questo è un saluto al volo ringrazio che mette sempre like le mie canzoni le mie mo non ho nulla da dirvi soltanto un saluto e volevo dirvi che sono che sono ritornata oddio un'ape un'ape magana vicino all'occhio ciao amici ciao amiche